Ciao a tutti, sono tornato con un nuovo mio esperimento qualcuno ha già visto questo nuovo sito experiment GIS dove prevedo di creare del codice semplice per creare le mappe e anche collaborare ma l'obiettivo principale è creare una map gallery fatta da voi, da chi desidera da chi desidera cimentarsi un po' nello sviluppo del codice e creare delle mappe come questa qua che vediamo in testata ho puntato un attimo l'attenzione sul plugin QGIS2LIFT quindi ho creato una mappa di esempio di QGIS2LIFT ho analizzato un attimo il codice e ho cercato di semplificarlo e più che semplificarlo di renderlo variabile quindi variabile con delle variabili che sfrutto Wordpress ho in principalmente il plugin Advanced Custom Field e niente, adesso lo vediamo subito come esempio, proprio per rendere questo esercizio, questo esempio molto fattibile vado a prendere una mappa già creata una mappa già creata da qualcun altro e il mio amico MassMap che ho visto che ha creato delle belle mappe anche ricche di contenuti sulla provincia di Como ha creato questa mappa dei beni culturali ok, questa mappa dei beni culturali ha i confini comunali e ha poi tutti questi punti di interesse che mediante il plugin di Leftlit Cluster ha creato questa bella visualizzazione e ad ogni punto ha associato un'icona queste un po' sono le caratteristiche e le variabili che andrò a sviluppare che ho sviluppato nel Wordpress Experimentalges e quindi iniziamo subito creo un nuovo articolo questo nuovo articolo lo chiamo in onore del mio amico MassMap e ci metto beni culturali le impostazioni di base sono che utilizzo un template del post che questo post può essere replicato quindi per fare tutte le mappe di cui ho bisogno e questo è l'Eflit Sample Type leader qua posso scegliere una serie di custom leader leader è presente se noi andiamo in visualizzo pagina sorgente ho modificato questo ho preparato dei vari leader che tengono scusate questo dei vari leader che contengono già da queste informazioni quindi leader è l'Eflit e poi cosa ci serve? ci servono una serie di parametri e i due sono i più importanti proprio per visualizzare una mappa sempre andando nella visualizzazione sorgente pagina questo il file geogason io faccio copia link lo incollo qui poi un'altra cosa che mi serve è questo geogason QGIS produce questo particolare codice e questa variabile è un po' diversa da tutti dipende da come vengono esportati tramite il plugin non c'è nessun problema in array 3 ovviamente io lo so ma ci sarà una piccola spiegazione in array 3 metto esattamente questa variabile ho creato delle categorie che mi permettono di aggiungere sia la posizione della mappa sia la scelta del tile qua appunto mi viene fuori la scelta del tile che io posso scegliere Stamentone, OpenStreetMap standard o comunque tutte quelle presenti in QGIS2Riff scegliamo adesso Stament Owner e questa localizzazione la vediamo subito però queste qua sono informazioni base quindi il post il template del post poi leader che contiene gli script javascript di leftlit.js il tile, la scelta del tile e poi il file geogason dove è situato se io faccio pubblica faccio visualizza articolo vedo che mi porta mi crea una mappa centrata non so dove perché non gliel'ho ancora detto però vedo tutti i punti di interesse che ha mappato il nostro amico qui, esattamente qui dove sono ha caricato il geogason ha caricato il tile non ha caricato le icone non ha caricato il tooltip e adesso vediamo come inserire queste informazioni prima di tutto vediamo di cosa ci mette qua la posizione la posizione so che era como se faccio aggiorna mappa visualizza articolo e troviamo che la mappa è esattamente centrata a como ovviamente lo zoom non va bene mettiamogli un bel 12 aspettiamo che finisce di caricare allora abbiamo visto lo zoom e lo zoom adesso ci fa vedere un po' i punti diminuiamolo ancora un po' facciamo 10 come vedete le impostazioni sono le classiche per mappare però le sto gestendo tutte con Wordpress aggiorno si ok adesso non si vede perché avevo zoomato indietro però è così adesso lo zoom mi sembra adatto posso magari centrare in un modo diverso anche la mappa ma adesso passiamo a vedere quello che esce quando clicco le iconi intanto cambio il tile layer perché stamen toner è molto bello ma non mi permette di vedere il dettaglio poi essendo tutto nero o le iconi nere ok comunque semplicemente io scelgo un altro tile aggiorno la mia mappa adesso ho zoom thunder adesso customizziamo quello che è presente qua dentro ho bisogno di sapere quali sono le colonne presente nel file geogason quindi possiamo andarle a vedere qua ci sono tutta una serie di se iniziamo con properties ci sono tutta una serie di colonne quelle che magari sono importanti sono nome e vincolato sono scritte attenzione se sono scritte nome e vincolato in maiuscolo quindi vado a posizionarlo nel mio array 1 nome virgola vincolato bisogna mettere per ogni colonna bisogna mettere la virgola senza alcuno spazio quindi faccio aggiorno adesso nella mia mappa nel to tip nel balloon dovrebbero venire fuori queste due informazioni ecco nome e vincolato qua ho visto che non c'è nessun campo di link ma se ci fosse un campo di link io gli posso dire che ad esempio il qua nell'array 2 nome è un link se faccio aggiorno si c'è un plugin di leflit che è l'autolinker però ho preferito non usarlo perché alcuni alcuni nomi sembrano dei link poi altri nomi non sembrano dei link poi non si può customizzare preferisco farlo in questo modo e lui ha fatto nome esattamente è un link e adesso vediamo come inserire le icone allora lui di default prende delle icone che ho scelto io ma come in questo caso se è presente un campo che mette le icone come in questo caso icon exp e poi il nome dell'immagine noi possiamo inserirlo lì come un array come abbiamo fatto prima icon exp quindi è il nome del campo virgola qua non bisogna mettere l'icona perché lo prende lui direttamente dal geogason però bisogna mettere il cioè se voi vedete qua se io bcv bcv bc vinc presenta una path relativa quindi la path relativa dobbiamo trovarla di solito bcvinc png è presente esattamente qua quindi noi dobbiamo mettere nella seconda parte dell'array tutto l'url che precede il nome dell'immagine e qua quindi lui scorrerà questo file geogason e quando trova il png aggiunge il png che è variabile più tutto l'url aggiorno e la nostra mass map prende le icone dei poi come abbiamo visto questo è quanto questa mappa è pubblicata e una cosa semplice che voglio che voglio dirvi per chiudere è che se io voglio ad esempio aggiungere un'altra colonna presente come il comune mi basta inserire qua la mia variabile posso scegliere se prima o dopo aggiorno e io troverò nel mio pop up quando clicco sull'icona anche il nome del comune eccolo qui bene spero che vi è piaciuto questo esempio e niente discutete a seguito di questo video se vi interessa sviluppare o inserire le vostre mappe nella mia map gallery ciao ciao